Benvenuti all'ultima di queste tre conferenze stampa di presentazione dei nuovi volti bianconeri. Abbiamo il direttore Pradè che presenterà Teodorcik, D'Alessandro e Opoku. Lascio subito al direttore la parola, prima presentiamo i ragazzi e poi il direttore farà il bilancio di questo calciomercato appena concluso. Iniziamo con i loro protagonisti. Teo e Marco sono gli ultimi arrivati, Opoku era già un bel pezzettino che era con noi, non avevamo mai avuto ancora il modo di vederci tutti quanti insieme. Perciò ve li lascio, tutte le vostre curiosità sono per loro e poi io dopo resto con voi per fare il punto finale del mercato. Grazie. Diamo prima di tutto la parola ai ragazzi per un saluto iniziale, cominciamo da Marco. Buongiorno a tutti, io volevo praticamente dire che sono molto contento di essere qui, ho tanto entusiasmo e voglio ringraziare il direttore la proprietà per la fiducia che mi hanno dato e non vedo l'ora di scendere in campo, dare il mio contributo e affrontare questa nuova esperienza con l'Udinese. Nicolás? Si ha semplicemente aggiunto che è felice di essere qui all'Udinese, per lui è un piacere poter lavorare in questo club. Buongiorno a tutti, la lingua italiana mi risulta un po' difficile ma cercherò di impararla il più presto possibile, sono qui da appena cinque giorni ma presto parlerò in italiano con voi. Benissimo, cominciamo allora con il Gazzettino. Buongiorno, io voglio fare una domanda al signor D'Alessandro. Tu hai girato alcune squadre, hai senato anche l'Atalanta e andare l'Atalanta è una delle regine della provinciale, diciamo che è la regina come numero di partecipazioni alla Serie A. Non ti dico se venendo a Udine hai fatto il salto di qualità perché ti mettono in imbarazzo, però ti dico che dopo un anno così così anche per infortuni, l'Udinese secondo me, e voglio la tua risposta, dovrebbe rappresentare il trampolino di rilancio per tornare a fare meglio, per vincere anche la sfortuna, perché qui ci sono molti giocatori nella sana provincia che hanno trovato terreno fertile per mettersi in evidenza. Assolutamente, ho avuto un anno un po' particolare, un po' per colpa mia, un po' per la sfortuna e essere qui per me è motivo di grande orgoglio, di grande stimolo. Questa è una piazza molto ma molto importante, a livello organizzativo secondo me è un'eccellenza e quindi insomma non vedo l'ora di riuscire a mettermi a disposizione per dare il mio contributo, per riuscire a far bene e ti garantisco che ho veramente tante motivazioni e quindi spero per me che sia un'ottima stagione. Poi le chiacchiere a volte contano poco e quindi spero di riuscire a far parlare il campo. Aggiungo una cosa, a Marco gli ho fatto il primo contratto da professionista, perciò qualche cosa mi deve portare indietro di tutta questa carriera, perciò a noi all'Udinese è un minimo, se non ce lo dà quest'anno non ce lo dà più. Buongiorno, io invece volevo fare una domanda a Lukasz, intanto benvenuto e volevo chiedergli, visto che da queste parti anche recentemente è passato un polacco come Piotr Zielinski, volevo sapere se magari aveva chiesto qualcosa a lui per ambientarsi e ci sono anche altri polacchi che in passato comunque hanno vestito la maglia bianconera e hanno fatto bene, se conosce qualcuno di loro. Piotrek to na pewno bardzo dobry zawodnik, bym powiedział świetny, może jeszcze nie pokazał swojego potencjału, taki jaki ma, ale myślę, że to wszystko z czasem pokaże na co go stać. Jeżeli chodzi o mnie, to nie dowiadywałem się od chłopaków o klubie, działo się to wszystko bardzo szybko, tak na dobrą sprawę, dwa dni, dzień przed zakończeniem okienka transferowego dowiedziałem się o możliwości przyjścia do Udineze, no i jestem tutaj, jestem niedługo, także nie zdążyłem jeszcze poznać wszystkich chłopaków klubu, tak że będę poznawał to z czasem. Piotrek. 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 Blaszyckowski, I Comunque che sei un difensore, ambientarti nel calcio italiano, diventare un leader difensivo, quello che magari manca a questa squadra. Guarda, io ti dico che ho vissuto l'ultimo periodo del mercato con molta tranquillità, avevo fiducia nel mio agente. Ovviamente quando mi ha detto che c'era la possibilità di venire qui, per me era l'opzione numero uno. Speravo tanto che si riuscisse a chiudere perché oltre al direttore questa è una piazza importante. E quindi sono contento che poi sia andata così, a prescindere dalle altre possibilità. Questa per me, di quelle che sono venute fuori, è l'opzione nettamente migliore per me. Grazie. Noi, thank you. Normalmente, it's been good, and then to become a good defender, you need to work hard, and then making sure that everything works good, perfect for you. And then, Italian CRI, we have a lot of defenders who are very good, and then I hope you need to work hard. To take a lead, anything in a pitch, you have to work harder. e sono anche qui per essere con voi e spero che tutto sia bene come possibile. Aggiungo una cosa io su Nicolas, ragazzo giovane, 97, ma già nazionale ganese, è un calciatore che era seguito da i club europei più importanti e sappiamo che dobbiamo lavorare su De Lui per la sua crescita ed esperienza, ma è già un calciatore che è pronto ad affrontare il campionato italiano. Messaggero Veneto. Sempre però poco, volevo chiederti se hai parlato magari con Gargo, Asamoah o Montari che sono stati i tuoi connazionali che ti hanno presciuto qui, specialmente Gargo che ha giocato nel tuo ruolo e vive anche qua, insomma voglio sapere questo. Una domanda per Teo, per Lukas, a livello tattico, se preferisci giocare una punta, due punte, come ti definisci anche a livello di attaccante? Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a voi. tutto quello che insegna l'allenatore ho intenzione di migliorare e di adattarmi il meglio possibile alla squadra Io volevo sempre chiedere a Teodor Cic se ha già parlato con l'allenatore quali compiti gli ha affidato cosa si aspetta da lui? I compiti sono facilissimi si aspetta che faccia gol tutto il resto abbiamo preso per quello non ho avuto ancora un colloquio individuale con l'allenatore però penso che si aspetta come da ogni attacante e l'allenatore che faccio molti gol Te compri i difensori perché non ti facciano gol e te compri poi gli attaccanti perché ti facciano se non è che danno Volevo chiedere ad Alessandro visto che nella scorsa giornata non eri entrato nella lista dei convocati da parte del mister che aveva spiegato che le ultime ore e anche le dinamiche del mercato avevano magari lasciato qualche tempo in più a lui volevo chiederti visto che eri anche partito da titolare nel primo preliminare dell'Atalanta come stai come ti senti se sei già pronto magari anche per il giocare al primo minuto la prossima partita con la Samp No io sono pronto mi sono sempre allenato soltanto nell'ultimo periodo di mercato precauzionalmente insieme alla società Atalanta avevamo deciso di evitare rischi ecco e quando sono arrivato qui lo staff medico ed io abbiamo deciso con il mister che era meglio non rischiare visto che avevo fatto solo un giorno di allenamento e venivo da un periodo dove avevo lavorato poco sul campo ed è stato solo a livello precauzionale adesso sto bene ovviamente più passa il tempo più riesco a entrare in condizione però fisicamente sto bene sono pronto per dare un contributo ora che sia al primo minuto in corsa comunque sono pronto e poi volevo chiedere invece una curiosità a Lukas visto che prima si parlava di gol tra le esultanze abbiamo visto mimare una sorta di T volevo capire se aveva anche un significato particolare oltre ad essere l'iniziale del tuo cognome in generale ci tengo molto a fare qualche gol però ho come obiettivo principale il bene della squadra in generale quindi anche se non sarò io a fare i gol mi va bene lo stesso e sarò sempre felice per la squadra in che senso cosa significa il segno che fa è una T del suo cognome è una T del suo cognome dei italiani può essere può essere un punto di partenza per ricostruire questo zoccolo duro per Teodoro che invece tutti dicono che erano tanti grandi club che ti cercavano si può sapere quali erano magari questi grandi club e perché poi hai veramente scelto l'Udinese cosa ti dava l'Udinese in più ma io lo spero in senso di poter insomma essere un un punto di di riferimento nello spogliatoio e qui insomma con il gruppo e tutto quanto ti dico è vero che ci sono tanti ragazzi stranieri però a me sembra da questi primi giorni che ci sia veramente che si stia creando un bel gruppo perché sono veramente tanti ragazzi molto bravi disponibili umili e il mio primo impatto è stato molto positivo nonostante io veramente non parlo inglese parlo solo l'italiano però i ragazzi anche chi non capisce bene l'italiano cerca sempre un dialogo con me e questo mi ha colpito molto perché ci poteva essere indifferenza perché la lingua comunque è un limite però questo da parte di nessun compagno non c'è stato e quindi credo ci sia un buon gruppo spero di riuscire a inserirmi nel modo più giusto possibile e di essere comunque un punto importante per questo gruppo c'è una sua guardia la mia vita nella mia vita ci sono stati vari cambiamenti di cui non mi va di parlare però ultimi due anni in cui ho giocato con la squadra belga mi sono trovato molto bene ho imparato sicuramente tanto e adesso mi sento di fare un salto di qualità per cui Udinese mi va benissimo mi trovo molto bene qua Gazzettino allora io non sono quello che fa lo schizzinoso squadra friulana innanzitutto la proprietà è friulana e questa è una garanzia che non è una società che ha una proprietà cinese o americana perché alla fine io sono convinto i tifosi applaudono il risultato applaudono il gioco al di là che ci siano stranieri o meno e per quanto riguarda lo straniero è vero ce ne sono troppi ma io è da tanto tempo che ne vedo qua troppi e quando le cose vanno bene vedo il pubblico che si esalta al signor Teodorchis si dice così Teodorchis mi dicono che tu non sia ancora al top della condizione o meglio tu sia in ritardo e questo spiega perché hai giocato per esempio 20-30 minuti non sei ancora al top sei appena arrivato è così? 20-30 minuti è arrivato giorno prima non, non, non sto parlando di brillantezza perché mi risulta che non ha giocato le ultime gare con l'Ande questo wracając po mistrzostwach świata cały czas trenowałem indywidualnie tak come już Państwo wiecie dochodiamo indywidualnie do formy ale myślę że niebawem będę już w tej optymalnej disposizji do disposizji trenera mi alleno costantemente magari non sono ancora nella forma migliore però ci tengo molto ad essere in forma migliore prima possibile possibile Marco volevo farti una domanda volevo sapere se magari nella tua scelta ha influito un po' il fatto che l'udinese giochi con un tecnico spagnolo un calcio propositivo tu che sei un esterno che salta l'uomo con questo 4-2-3-1 se magari può averti anche stuzzicato questa idea qua di poter rendere in un modulo che ti possa far rendere beh assolutamente il fatto che ci sia un allenatore con una tipologia di gioco che può esaltare le mie caratteristiche ovviamente ha ha influito però diverse cose hanno insomma mi avevano portato a sperare di riuscire a a venire qui oltre a insomma alla società come ripeto al direttore e ovviamente anche il modulo di come gioca il tecnico è una cosa che ha influito parecchio l'idea mi piace e non vedo l'ora insomma di riuscire a inserirmi al meglio in questi meccanismi perché credo di poter dare un ottimo contributo ma nella mia carriera ho gioco sia a destra che a sinistra un po' diciamo mi cambia poco ecco mi piace giocare sia a destra che a sinistra ovviamente a destra sono un po' più lineare essendo destro a sinistra riesco un po' anche magari a rientrare però insomma mi piace giocare mi piace giocare Udinius a proposito di Spagna volevo chiedere a poco siccome dalla Spagna è arrivato Cristiano Ronaldo oggi c'era anche tanto attesa ai botteghini proprio per i biglietti con la Juventus se uno dei motivi magari che l'ha portato a venire qui in Italia è il confronto con tanti importanti attaccanti che giocano nel nostro campionato per crescere individualmente ma anche dal punto di vista della tattica di squadra visto che il campionato italiano è considerato dal punto di vista della tattica difensiva uno dei più difficili è il campionato italiano è il campionato italiano per essere in Italia spero che è un sogno come true e il mio sogno è stato di giocare in Italia e per essere in l'Udinius e sono anche molto felice non è solo Cristiano Ronaldo e sono qui per lavorare e per fare potenziali per fare mi ha fatto e spero che tutto sia bene per me e poi per lavorare e per sicurare che tutto sia molto bene Già il fatto di essere in Italia per me è un sogno che diventa realtà certo sono molto felice che in Italia sia arrivato un attaccante straordinario come Cristiano Ronaldo io sono semplicemente qui per dimostrare tutto il mio potenziale so che potrò farlo con il lavoro e spero che da questo punto di vista per me vada tutto bene Volevo chiedere ad Alessandro sulle fasce siete in tanti l'intinese è cambiata anche come modo di giocare e tu dei tuoi tra virgolette concorrenti chi temi di più e quanto ti aspetti di quanto spazio pensi di trovare ma ti dico la verità temere nessuno anche perché non sono non sono avversari sono compagni di squadra avere compagni bravi esterni bravi è un'ottima cosa perché spinge sempre a far bene in allenamento e non è una frase fatta è verità te lo posso garantire io sono qui per cercare di fare ogni giorno il meglio il meglio di me stesso per cercare di ritagliarmi il più spazio possibile è inutile starti a dire quanto vorrei giocare vorrei giocare ovvio che vorrei giocare il più possibile però è ovvio anche che devo meritarmelo tutto qui grazie bene adesso facciamo un attimo di pausa e poi ricominciamo con il direttore Pradè è abitudine mia alla fine del mercato fare un punto generale su tutto quello che abbiamo fatto perciò e perciò vi riassumo in poco quello che sono state le nostre intenzioni dall'inizio del mercato fino ad oggi noi abbiamo fatto un grandissimo cambiamento abbiamo praticamente rispetto all'anno scorso io parlo solo di squadra senza calciatori che poi erano in altre società e sono andati via io parlo soltanto tra rosa della scorsa stagione e rosa di quest'anno abbiamo una differenza di 11 calciatori in entrata nuovi più Bado e Vaguet che erano in prestito in società straniere perciò abbiamo rispetto alla scorsa stagione 13 calciatori nuovi dall'anno scorso della 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 passata stagione ne sono andati via 8 che sono Aliannan Danilo Alfrenson Janto Perissa Widmer Maxilopo e Bizzarri e quest'anno abbiamo di nuovo abbiamo Nicolas D'Alessandro Econg Macisse Mandragora Musso Opoku Pussetto Theodorsic Teravest E Vizeo più Bado e Vaguet questo perché parliamo così prima perché l'Udinese ha fatto dei grandissimi investimenti a livello patrimoniale investimenti che la famiglia Pozzo voleva fare per ricostruire qualche cosa di importante e di questo ne siamo contenti perché siamo andati a prendere dei calciatori che come dicevo prima avevano veramente tante richieste da altri club dove sinceramente neanche io pensavo che noi potessimo arrivare e di questo ne siamo veramente felici di questa rosa che abbiamo creato dall'altra parte è un discorso allargato perché veniamo veramente da un cambiamento veniamo da un cambiamento di filosofia veniamo a un cambiamento di un allenatore nuovo di un mister giovane con delle idee dei contesti diciamo diversi da quelli che avevamo lavorato finora ecco quello che che mi piaceva esprimere e condividere con voi era proprio questo cambiamento questo cambiamento grande che c'è stato questa grandissima forma di investimento che la famiglia Pozzo ha fatto oltre a questo anche i calciatori che sono rimasti è stata è stata dura tenerli con le offerte che avevano avuto De Paul Barak Fofanà Lasagna Samir perciò secondo noi abbiamo fatto qualche cosa di importante ecco sono d'accordo l'operazione che avete fatto che avete concluso anzi non avete ancora concluso perché il mercato estero chiude il 31 agosto e qualcuno andrà via sì ma non della rosa della prima squadra stiamo parlando i giocatori in sovrappiù quelli che non rientrano quelli ce l'abbiamo fuori come ce l'hanno tutti quanti perché il mercato strano è stato quest'anno anche la chiusura anticipata quest'anno è stata una particolarità un po' per tutte le società non mi riferivo al nucleo dei titolari o alla rosa dei titolari ma mi riferivo ai giocatori in sovrappiù che non rientrano nei progetti uno è andato vierto adesso voi siete impegnati a piazzare anche gli altri se riuscirete bravi se no ma quello che a me preme sottolineare questa situazione che stiamo vivendo oggi io l'ho già vissuta come testimone del comportamento della società nel 1989 avete eliminato le incrostazioni alcuni giocatori qui avevano fatto il loro tempo avete ringiovanito la squadra avete preso giocatori che hanno fame per cui credo sarà il campo a dare la risposta definitiva ma credo che ci siano i presupposti per invertire la rotta perché sentendo anche parlare questi giovanotti soprattutto vedendoli come seguono questo è importante vuol dire che la natura è credibile come seguono Velasquez credo che sia alla base per invertire la rotta ma io ti posso dire soltanto che il cambiamento i cambiamenti possono portare benefici e possono portare anche dei problemi ma noi quello che chiediamo e quello che ci aspettiamo è chiediamo un attimo di serenità di pazienza perché diciamo completare un organico completare un lavoro ci vuole tempo noi alla fine è iniziato a lavorare completamente dal 9 al 10 di luglio se vai a vedere oggi stiamo al 24 è un mese e mezzo di lavoro un mese e mezzo di lavoro con tanti uomini nuovi con una filosofia diversa e per quanto riguarda se ci sono dei calciatori che avevano fatto diciamo come succede in tutte le società nel senso che è fisiologico un cambiamento il cambiamento per esempio mi preme anche ecco così faccio un chiarimento anche su Danilo che non avevamo mai avuto modo di parlarne ma Danilo è un professionista di prima fascia è un calciatore forte ma era giusto che cambiasse anche lui proprio per una situazione fisiologica i giovani ti portano entusiasmo questo è un gruppo che in questo momento ha grande entusiasmo va sostenuto sono convinto che la gente il popolo friulano questo lo ha capito lo ha capito perché si respira un'aria nuova questo si sente esageramento una solo una considerazione può essere un fattore un incognito la mancanza un po' di esperienza vedo l'età media anche lo stesso allenatore cioè sono partiti giocatori magari che appunto hai detto te magari hanno fatto il loro tempo però avevano un'età che potevano forse anche garantire qualche cosa in più a livello di esperienza consideri un'incognita questo ne parliamo parecchio con con il presidente Pozzo ne parliamo spesso e si è un'arma a doppio taglio questa è un'arma a doppio taglio perché l'esperienza ti porta ti porta qualcosa e la gioventù te ne porta un'altra nel senso che quello che ti porta la gioventù è tanto entusiasmo tanta voglia tanta forza fisica tanto agonismo poi le cose le valuti nel tempo cerchi di migliorare quello che vedi che non va noi adesso siamo in questo punto abbiamo una persona che ci deve dare tanto un calciatore sotto questo profilo che è Berami da lui ci aspettiamo ci aspettiamo che non sia un capitano in campo sia un capitano nello spogliatoio io considero Valon uno dei più grandi acquisti di quest'anno le volevo chiedere è vero avete fatto un gran mercato una grande rivoluzione e giocatori effettivamente interessanti di quelli che secondo Radio Mercato erano stati appostati guarda io scusa se ti interrompo che non è non è educazione però io direi calciatori forti poi dopo è logico che giovani come come ti inserisci il campionato italiano è molto difficile però sono calciatori perché forti forti perché li volevano i grandi club e questa è una cosa importante l'interessante il grande club non lo prende Radio Mercato parlava insistentemente di giocatori come Favilli la Padula le chiedo cosa c'era di vero quali erano i nomi veri e come mai non sono dati di corto allora il discorso è molto semplice Radio Mercato e tanti passano tanti calciatori Teodorsic noi non pensavamo mai che potevamo raggiungerlo è diventato molto concreto nell'ultima settimana ma questo fa parte del percorso del mercato però hai preso forse hai preso il calciatore che più ti serviva all'interno di questo gruppo Volevo solo precisare su prima su queste incrostazioni chiamiamole così io dico che sono incrostazioni tu hai giocatori che dal punto di vista fisiologico avevano fatto il loro tempo ma io credo sì è vero esiste i rischi quando si cambia radicalmente la squadra esistono però parlo sempre per quello che ho visto in questi anni era una tappa obbligata quella di mutare il volto l'udinese ma ogni è ciclico che una società di calcio che è diversa da ogni tipo di altra azienda è ciclico che ogni 3-4 anni deve avere un cambiamento un cambiamento importante ma per tutto per motivazioni per voglia di stare all'interno di un gruppo per voglia di cambiare l'atleta è questo tutto l'udinese buongiorno direttore due domande eccoci la prima fuori dal Friuli sono arrivati dei giudizi poco lusighieri sul mercato dell'udinese se poteva darci due battute su questo e la seconda è per quanto riguarda Seferovic perché ci sono state un po' di incomprensioni qualcuno parla di un accordo che il Benfica ha fatto saltare qualcuno parla di un cambiamento dell'udinese cosa c'era di vero cosa non c'era di vero ma guarda ti rispondo nei giudizi esterni siamo contenti a me interessano i giudizi interni quelli che siamo qua che hanno visto che vedono i giudizi esterni tante volte non hanno anche la conoscenza di quello che succede e la cosa bella è poi cercare di fargli cambiare ma se succede sarò il primo a fargli cambiare con grandissima forza e con grandissima anche soddisfazione per quanto riguarda Seferovic stava nel Calderone è stato un mio calciatore alla Fiorentina ho un bellissimo rapporto con lui e sapeva benissimo che poteva essere una nostra opzione come lo erano tutti gli altri che sono stati detti primi però l'arrivo ossia l'apertura che ci ha dato Teo siamo andati dritti su quello ecco perché lì è stato poi bravissimo il presidente Gino Pozzo nel rapporto con l'Underlec abbiamo altre domande sono stato soddisfacente sono stato c'è qualche cosa perché quando uno parla è meglio dirsele tutte le cose non lasciare un piccolo perché poi può darsi che ci rivediamo fra un mese e qualche cosa non è stato il signor Musso che è stato che è un acquisto è un investimento importante molto che finora non ha mai giocato purtroppo sta bene sta bene ieri ha fatto tutto l'allenamento logicamente ci vuole almeno una settimana per ritrovare la porta e tutto quanto però si allena regolarmente un un acquisto importante quello di Musso perché è veramente un portiere interessante e forte tutto mercato web è l'ultima curiosità perché dopo come ha detto lei diventano tanti tifosi chiedono di Angela qual è la sua situazione la situazione di Gabriele è una situazione semplice quello che avevamo già detto nel senso il cambiamento ha portato anche lui in questa situazione non rientra in questo momento nei piani futuri del club però Gabriele è un professionista serio si sta allenando e spero che insieme riusciamo a trovare la migliore collocazione per lui ecco grazie a tutti